Al duello contro Widmark riesce a reggere in difesa e arriva al recupero di Tonut con il fallo da parte di Katic, il passo laterale, lo sgambetto involontario anche se falloso, è il secondo fallo di Katic, secondo fallo di squadra per Sassari con Luana Reir che torna in posto. Grazie.